La polizia festeggia il centosettantesimo della sua fondazione premiati in prefettura gli agenti che si sono distinti in servizio. Dalle scogliere di Metauriglia uno studio a Fano Nord per la difesa della costa. L'assessore regionale Stefano Guzzi illustra i nuovi interventi grazie ai fondi regionali del PNRR. Diamo a questo territorio risposte attese da te. Al Codma di Rosciano partono i lavori per le due nuove rotatorie e l'annuncio dell'assessore Fabio Lattonelli che illustra le quattro fasi del cantiere. Alessandro Taddei è il neopresidente regionale della Confederazione Italiana Agricoltori, subentra a Mirella Gattani. Si svolgerà a Metauriglia di Fano la prima festa dedicata al Cavolfiore Tardivo. Dal 23 al 25 aprile degustazioni, mercatini, spettacoli e visite guidate tra cultura e cultura. Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. Bentornati sul canale 19 del Digitale. Dopo due anni di iniziative simboliche anche la Polizia di Stato è tornata a festeggiare in presenza l'anniversario della sua fondazione, la cerimonia è stata anche l'occasione per consegnare le onorificenze ai poliziotti che si sono distinti in attività di servizio. Nella splendida cornice del Salone Metaorense a Pesaro, la Polizia di Stato ha celebrato il 170esimo anniversario della sua fondazione, un'amministrazione longeva che ha accompagnato nel tempo i cambiamenti della società anche trasformandosi per soddisfare le nuove necessità. Una Polizia radicata nel presente e proiettata verso il futuro che torna a condividere con i cittadini i suoi valori e i risultati conseguiti grazie al quotidiano operato delle sue donne e dei suoi uomini. Inevitabile il pensiero rivolto ai due anni appena trascorsi segnati dalla pandemia, tant'è che il Presidente della Repubblica quest'anno ha concesso la medaglia d'oro al merito civile e alla bandiera della Polizia di Stato agli agenti che con eccezionale valore e senso del dovere hanno profuso ogni energia nel garantire, anche in occasione dell'emergenza pandemica da Covid-19, la tutela della salute dei cittadini. Un eccezionale banco di prova che ha evidenziato lo spirito di servizio che caratterizza l'attività di ciascun poliziotto consegnate anche a Pesaro le onorificenze. Sono stati due anni difficilissimi perché abbiamo dovuto affrontare circostanze, situazioni impensabili, quindi abbiamo dovuto adeguarci alle nuove esigenze collettive per garantire appunto la sicurezza di tutti i cittadini. Abbiamo svolto lavori, io ricordo la Pasca di due anni fa. Ho trascorso la giornata di Pasqua da solo, completamente da solo, girando per la città di Pesaro per verificare insieme al nostro personale, carabinieri, polizia, il controllo del lockdown generalizzato che c'è stato in quel periodo. Ricordo che c'era anche l'elicottero della polizia che cercava tutti coloro che potevano, quelli che facevano un po' di furma, ma era sacro santo, una certa esigenza di uscire perché in effetti erano belle giornate. Quel lavoro sicuramente ci ha ulteriormente formato, formato perché abbiamo svolto un'attività, diciamo, diversa dal solito. Questa è una realtà tranquilla e la cittadinanza ha collaborato molto, ha proseguito in quest'ora e che ha aggiunto, è una provincia laboriosa, educata e silenziosa. Nel suo intervento poi Todisco ha annunciato che a breve lascerà il servizio. I dirigenti superiori ci limitano di 63 anni, io li compio a giugno e quindi automaticamente in mezzo successivo vengo collocato, come si dice in congetto, illimitato. Mi dispiace, mi dispiace perché dopo tanti anni di servizio e dopo tanti anni dedicati quotidianamente al prossimo, per me io ritengo che la scelta di fare il poliziotto sia una missione e quindi si termina questa missione e c'è un'interruzione, ecco c'è un'interruzione che spero di affrontare il miglior modo possibile. Fa retromarcia con l'auto in veste un 96enne che aveva appena acquistato un giornale. È successo questa mattina intorno alle 10.15 in Biarco d'Augusto a Fano. Alla guida della vettura, una Ford Ka, c'era una cittadina albanese di 36 anni che non ha riportato conseguenze fisiche. Il pedone invece è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso in codice giallo. sul posto anche la polizia locale. Ed ora parliamo di difesa della costa perché oggi a Fano l'assessore regionale Stefano Aguzzi ha annunciato importanti investimenti per le scogliere anche grazie al piano nazionale di ripresa e resilienza. La città di Fano potrà mettere un freno all'erosione della costa, se ne parla da decenni, ma ora grazie alla regione Marche e ai fondi del PNRR potranno essere portati a termine i lavori per le scogliere da nord a sud. L'annuncio è arrivato questa mattina nella sala della Concordia dall'assessore regionale Stefano Aguzzi. L'intervento più importante è previsto a Metauriglia. Io in questo anno e mezzo ho fatto l'assessore regionale, nel senso che ho guardato tutto il territorio della nostra regione senza dar l'idea di voler lavorare per un singolo territorio. però con la consapevolezza e la perfetta conoscenza di quelle che sono le esigenze di questo territorio, avendo fatto qui il sindaco per tanti anni e vivendo in questo territorio, ho fatto sì che si potesse arrivare ad una serie di azioni che potessero portare qui delle risposte che si attendevano da molti anni. Particolarmente è questa, diciamo, prosecuzione di lavori a Fombaccia-Metauriglia fino a Torrette, perché lì è in atto oggi il primo stralcio, ma questo primo stralcio era motivato dalle ferrovie che dovevano difendere appunto la linea ferroviaria, tant'è che questi 4 milioni che attualmente sono in campo sono 2 milioni della regione e 2 milioni delle ferrovie. Per completare l'opera ha proseguito Aguzzi e per mettere in sicurezza anche gli stabilimenti balneari che al momento non sono protetti dal primo intervento, occorre proseguire con il secondo stralcio per un importo di ulteriori 4 milioni. Approfittando dei fondi del PNRR io ho proprio finanziato questo ulteriore stralcio e a questo punto si dà seguito tramite il Comune di Fano al completamento di tutte le scoglieri, il salpamento, così si chiama, lo spostamento più lontano dalla riva di tutte le scoglieri fino a Torrette, con un'unica linea di costa. Noi potevamo inserire anche un altro tipo di finanziamento, quelli del PORFES, fondi europei, ma quelli hanno una tempistica volendo anche più lunga di rendicontazione, ma proprio perché Fano insieme a Porto Sant'Elpidio, insieme a Marina di Fermo hanno progetti già pronti, abbiamo finanziato questi tre interventi, una Fano, una Porto Sant'Elpidio e una Marina di Fermo. Sono i tre progetti che possono arrivare prima a compimento ed essere rendicontati entro il 2026. Questi lavori, complessivamente, permetteranno di aumentare le spiagge di migliaia di metri, come precisato dai tecnici della regione. Un intervento importante che non è il solo annunciato da Guzzi, infatti altri 270 mila euro verranno destinati ad uno studio che possa definire le esigenze della difesa della costa dal Lido a Fosso Seiore. Dopo la realizzazione del progetto complessivo, i lavori verranno eseguiti a step. Oltre a questo altri 275 mila euro per completare le scogliere qui di Sassogna, dove è rimasto tra il Porto e l'attuale scogliere una parte non conclusa che mette a repentaglio alcuni stabilimenti balneari, e poi anche due interventi, uno sul fiume Metauro e uno sul torrente Arzilla, per mettere in sicurezza gli argini. Per il fiume Metauro i lavori sono stati aggiudicati da una ditta di treia per un importo di 480 mila euro. L'intervento verrà eseguito sull'argine destro, che va dalla foce al ponte dell'autostrada. Però si dovrà attendere il mese di luglio, perché fino al 30 giugno è in vigore un'ordinanza che tutela la fauna selvatica in vista della nidificazione. Invece all'Arzilla è previsto il rifacimento dell'argine, che verrà alzato di circa un metro tra il ponte della ferrovia e la statale. In questo caso l'importo è di 380 mila euro e i lavori, salvo imprevisti, potrebbero concludersi entro l'estate. È importante perché non dimentichiamo che Fano è la città delle Marche che ha la costa più lunga e quindi ha anche bisogno di interventi importanti e risorse importanti. In questi anni l'amministrazione comunale ha investito molte risorse proprie, che si aggiungono a quelle già destinate in passato dalla regione, da RFI. Qui se ne aggiungono delle altre, in modo particolare per la zona di Metauriglia. È una notizia importante, soprattutto perché questa è una zona che va protetta dall'erosione, ma è anche un investimento per il futuro, perché si andranno a creare anche nuove spiagge, nuove opportunità turistiche ed economiche. Il centro pastorale diocesano ritorna al suo antico splendore. Su sollecitazione del vescovo Armando Trasarti, proseguono i lavori di risanamento conservativo dell'edificio situato in via Roma a Fano, l'imponente struttura che fino al 92 ha ospitato il pontificio seminario marchigiano Pio XI. Il restauro riguarda sia la facciata che gli infissi, mentre per quanto riguarda le opere esterne, si prevede la demolizione e il successivo rifacimento di marciapiedi del cortile interno, del chiostro e la realizzazione di una nuova tubatura della rete fognaria. L'intervento di 500 mila euro è stato finanziato con i contributi dell'Otto per Mille, della Banca di Credito Cooperativo di Fano e della ditta Profiglas. Di fronte al Codma invece di Rosciano a Fano, oggi è iniziato il picchettamento in vista della realizzazione di due rotatorie in uno degli incroci più pericolosi della città, purtroppo teatro anche di incidenti mortali. Assessore, ci siamo? Questi lavori tanto attesi dalla città partiranno? Finalmente partiamo con i lavori della rotatoria di via Campanella e intersezione con la strada del cimitero di Rosciano e Bellocchi. Ci tengo a dire che questo cantiere è tanto atteso, finalmente iniziamo i lavori. Inizieremo con un cantiere in quattro fasi. La prima fase sarà la realizzazione di questa grande rotatoria, la seconda fase è la piccola rotatoria alle mie spalle, poi ci sarà la fase della realizzazione delle ciclabili intorno a queste rotatorie e l'ultima fase sarà quella dell'asfaltatura. Ma andiamo per i gradi. Inizieremo appunto con la movimentazione del terreno, si inizierà a vedere qualcosa nella settimana dopo Pasqua. Lavoreremo su queste grandi treaivuole, quindi non ci saranno cambi di viabilità in queste prime settimane, nella prima fase diciamo. In seguito il cantiere quando si sposterà ci riaggiorneremo appunto sui cambi di viabilità perché ad oggi insomma è un po' prematuro iniziare a dire esattamente cosa cambierà nella circolazione delle automobili. Il costo dell'intervento? L'intervento è il costo totale di circa 500 mila euro. e siamo molto contenti di questa rotatoria che mette in sicurezza questa grande intersezione che è diventata con le opere compensative molto molto frequentata e quindi non vediamo l'ora di vedere l'opera realizzata. È tornato anche per gli utenti positivi al Covid l'obbligo di differenziare i rifiuti. Prima infatti, come ricorda ASET e SPA, dovevano essere conferiti tutti nel secco non riciclabile, poi ritirato dagli operatori della società dei servizi. Ora invece, con la fine dello stato di emergenza sanitaria, chi è stato contagiato deve conferire i rifiuti in maniera differenziata secondo le modalità adottate nella zona di residenza. Non possono recarsi personalmente nelle isole ecologiche, ma possono delegare questa operazione oppure provvedere autonomamente dopo il primo tampone negativo. I test fai-da-te, le mascherine e i guanti devono invece essere separati dagli altri rifiuti utilizzando un doppio sacco chiuso in modo accurato da conferire nell'indifferenziato. E adesso le vostre segnalazioni. Partiamo dalle foto scattate a Sassogna di Fano, alla scalinata che da Via Gentile da Fabriano conduce in Via Cristoforo Colombo. Una situazione di degrado segnalata più volte, ma che ancora non è stata risolta. Così come nel sottopasso pedonale tra Metauriglia e Torrette di Fano, all'altezza dell'hotel Playa, è ancora pieno di sabbia. Sono rimasto basito, ci ha scritto il reporter di strada, nel vedere un'incuria del genere in prossimità della Santa Pasqua. Noi abbiamo chiesto di nuovo informazioni all'assessore Barbara Brunori, la quale ci ha assicurato che la pulizia del sottopasso avverrà domani mattina. Cambiamo argomento. È Alessandro Taddei, il nuovo presidente provinciale della Confederazione Italiana Agricoltori. Subentra a Mirella Gattari, che è stata alla guida della Confederazione per ben nove anni. La Commissione propone all'Assemblea di eleggere Alessandro Taddei a presidente della CIA regionale. Pertanto chi sono favorevoli, posso dire che Alessandro Taddei è il nuovo presidente regionale della CIA regionale. Dopo otto anni alla presidenza della CIA di Pesero Urbino, ora ad Alessandro Taddei spetta una nuova sfida. Nei giorni scorsi ad Ancona è stato eletto presidente regionale durante l'ottava assemblea elettiva della Confederazione. Rimarrà in carica per i prossimi quattro anni. Il gruppo è coeso, sono già diversi anni che lavoriamo insieme, quindi cercheremo di fare il nostro possibile per riuscire a far far reddito alle nostre aziende agricole. Come dicevo, purtroppo la situazione non è delle migliori, però cercheremo di fare il possibile. Dopo il sisma e la pandemia, infatti, il settore dell'agricoltura ha dovuto affrontare le emergenze legate al caro prezzi e alla guerra tra Russia e Ucraina che stanno mettendo a dura prova anche le marche. A questi si aggiungono i problemi legati alla burocrazia, all'incertezza degli eventi atmosferici e alla presenza di animali selvatici come i cinghiali che danneggiano le produzioni. Temi affrontati pure da Mirella Gattari, presidente uscente, che continuerà a dare suo contributo all'interno della CIA come presidente dell'Associazione Donne in Campo. Nel suo intervento Gattari ha sottolineato come, nonostante le difficoltà, le strutture della Confederazione abbiano registrato, nell'ultimo mandato, una crescita di imprese e di soci. Continua poi la collaborazione con il governo regionale, al quale ha proposto anche di istituire d'urgenza almeno due ore settimanali di educazione alimentare nelle scuole per far avere la necessaria conoscenza a tutti che non ci sono solo cibi buoni e cattivi, bensì sane abitudini alimentari ed altre che lo sono meno, oltre alla differenza tra uso consapevole e dannoso dei vari alimenti. Ne gioverebbe, ha detto, non solo il sistema agroalimentare, ma l'intera società con un miglioramento della salute. Sicuramente potevamo fare diversamente, forse potevamo fare di più, meglio, ma sicuramente non potevamo fare di più perché noi ci abbiamo messo tutto. Cosa ci aspetta? Ci aspetta sicuramente un periodo pessimo per tutti gli eventi tragici dal 24 febbraio, sicuramente. Ma noi siamo riesilienti e noi vogliamo essere la risposta, vedi alle problematiche per l'alimentazione, alle derate alimentari. E noi vogliamo essere la risposta, questo come agricoltori, ma come associazione noi vogliamo essere anche la risposta per dare welfare, per dare tutto ciò che noi ogni giorno facciamo. E il prossimo gruppo dirigente avrà tutto il supporto di quello uscente. Io personalmente posso dire solo grazie e che sia un periodo migliore per voi. A ringraziare Mirella per il lavoro svolto anche il direttore Gianfranco Santi nell'organizzazione da ben 45 anni. Noi abbiamo solo un interesse, l'interesse è quello di far sì di rappresentare l'agricoltura e gli agricoltori, soprattutto i nostri soci, su questo non c'è dubbio, perché siamo proprio un'organizzazione che rappresenta degli interessi. A noi poco ci interessa se uno appartiene a una corrente politica, a una forza politica o un'altra. Quello che ci interessa è riuscire a dare delle risposte tramite le nostre azioni sindacali, ma anche le opportunità con i servizi che la normativa ci dà per riuscire a farli crescere, a farli crescere, a far sì che tutte le aziende possano diventare sostenibili. Da quelle di pianura, quelle di collina, quelle di montagna, le quali sono chiaramente le più a rischio e le più in difficoltà. L'olio d'op cartoceto protagonista alla fiera Sole Agri-Food da Verona. Siamo davvero soddisfatti, ha dichiarato il sindaco Enrico Rossi, del fatto che per la prima volta le Marche stiano mettendo in campo un'azione mirata alla costruzione di un brand regionale. Per affrontare l'agricoltura con obiettivi di modernità, ha continuato Rossi, sono però necessarie anche la ricerca e la formazione. Il sindaco ha ricordato il Consorzio di tutela della DOP Cartoceto, che assieme al Comune, all'Università Politecnica delle Marche, all'Istituto Agrario Cecchi di Pesaro e a tanti produttori, sta portando avanti un progetto di valorizzazione delle risorse genetiche dell'olivo. Un altro obiettivo dell'amministrazione è quello di mettere a servizio un complesso nel centro storico per ospitare corsi di specializzazione tecnica post-diploma superiore. Si svolgerà a Metaurilia di Fano dal 23 al 25 aprile la prima Festa del Cavolo, un evento ricco di appuntamenti tra cultura e no gastronomia e divertimento. I dettagli nel servizio di Filippo Pucci. Si chiama Festa del Cavolo e non è il nome di una festa fatta su due piedi, ma di un evento che ha lo scopo di far rinascere la frazione di Metaurilia. Eh sì, perché questa località, nata negli anni 30 sotto il regime fascista, divenne con il corso del tempo un vero e proprio centro di produzione del Cavolo Tardivo fanese fino agli anni 60. Ed è proprio concentrato su questo ortaggio la manifestazione ideata dal Circolo Albatros 87, in programma dal 23 al 25 aprile, giorni in cui il Cavolo Tardivo di Fano fiorisce. Le iniziative si svolgeranno all'interno di Piazza Alceo Pucci, vicino all'attuale chiesa. Chi viene a Taurilia troverà da mangiare, troverà spettacoli, musica, passeggiate, visite guidate. Ci sarà da ridere con Giorgio Falcioni, il Cador, che presenterà la storia semiseria del Cavolfiore di Fano, sabato 23, poi ci sarà il San Costanzo Show domenica 25, per chi vuole ridere. Per chi vuole passeggiare, domenica, famiglie con bambini, la passeggiata a quattro zampe, nel pomeriggio, a seguire merenda di una volta e visita giocata alla mostra. Per chi invece vuole divertirsi tra campagna e spiaggia, abbiamo organizzato la Fanta Caccia al Tesoro, lunedì 25. Ovviamente la mattina ci sarà una commemorazione legata al gruppo partigiano di Metaurilia, perché Metaurilia ha una storia molto interessante, quindi noi racconteremo tutto quello che c'è da raccontare al centro protagonista del Cavolfiore. L'evento è realizzato grazie alla partecipazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Marche, con la collaborazione del Comune di Fano. Un evento ovviamente che vuole valorizzare la cultura e la cultura di questo territorio, partendo dal Cavolfiore Tardivo. Ma anche un bel messaggio di ripartenza, dopo due anni che i quartieri si sono fermati, e insomma vogliamo anche così spingere anche tutte le altre associazioni nei quartieri a dar vita ad altri eventi come questi, ad altre attività, perché è veramente molto importante la vita sociale, culturale, il rapporto tra le persone nei quartieri, perché ci aiuta veramente a costruire una comunità forte e una città migliore. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pesore, in questi giorni che precedono la Pasqua, ha realizzato un'iniziativa di solidarietà volta alla raccolta di fondi destinati a Dante e Opera, due associazioni pesaresi che operano nel campo dell'assistenza domiciliare ai malati di tumore. Grazie all'acquisto di uova o campane di cioccolato e di colombe pasquali, le Fiamme Gialle hanno raccolto significative somme di denaro per sostenere le attività di queste associazioni. E prima di chiudere il telegiornale facciamo gli auguri a Danita Tinti, che ieri ha compiuto 101 anni, l'anziana che per tanti anni ha abitato a Finile di Fano, è ospite nella Casalbergo Famiglia Nova. È stata festeggiata dai familiari e dallo staff della struttura, per lei diversi regali come fiori e una splendida torta condivisa con tutti gli altri ospiti. Anche ieri però non è mancata una bella camminata e un po' di ginnastica insieme all'operatore Enrico per rimanere sempre in forma. Auguri da tutto lo staff di Fano TV, tra poco trasmetteremo uno speciale dedicato ai centri estivi sportivi Jump. Allora buona serata sui nostri canali. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.